Oggi io volevo provare a intavolare una discussione sul concetto di barbarico e anche barbaro in generale. Perché è un concetto che noi incontriamo molte volte nella storia dell'umanità. Ad esempio, quando si legge o si sente parlare della caduta dell'impero romano, molte volte si legge sui manuali che una delle cause principali fu l'arrivo delle popolazioni barbariche, le cosiddette invasioni barbariche, che sembra un aggettivo forviante perché è rappresentato questo fenomeno come qualcosa di irripedibilmente negativo, come se un pianeta felice venisse colpito da un asteroide del tutto irrazionale. E poi, se cambiamo prospettiva storiografica, se andiamo a leggere le produzioni storiografiche dei tedeschi, leggiamo che l'aggettivo, la locuzione invasioni barbariche è sostituito da Wolfsvangerhunden, cioè migrazioni di popoli. Ora si capisce la differenza di prospettive che c'è tra questi due aggettivi. L'uno è invasioni barbariche, la rappresentazione di qualcosa di nefasto, mentre l'altro è più una constatazione di fatti. E effettivamente noi cerchiamo di avvicinarci alla concezione tedesca, quindi i barbari effettivamente sono stati visti come emigrazioni di popoli. Ma cosa intendevano i romani per barbari? E come percepivano i barbari i romani? Innanzitutto, barbari è un aggettivo ampio, di ampio respiro, che comprende popolazioni di varie etnie e con costumi e provenienze totalmente diverse. Ma il rapporto con i barbari, perlomeno con Alemanni, si ha già nel secondo secolo dopo Cristo, con le guerre appunto di Marco Aurelio. Ciò che è più sconvolgente di questa trattazione dei barbari e dell'universo barbarico è che noi possediamo, attraverso i secoli, categorie etniche che sono proprie dei romani. Cioè noi abbiamo le categorizzazioni che i romani affibbiavano a questi barbari e non abbiamo di contro il riscontro di come questi barbari si autorappresentassero. Cioè noi quando sentiamo parlare di Alamanni, Alani, sono categorie che i romani stessi hanno dato a questi popoli e che a loro volta hanno ripreso dai greci, dai testi greci classici, dai rodoto ad esempio. E quindi come possiamo noi basarci su un'opinione data non riscontrabile sul campo, o perlomeno? E poi molte volte si percepisce l'estrema alterità di questi popoli, come se i barbari fossero estremamente diversi dai romani. E' vero, la principale differenza che c'era tra i barbari e i romani era che i romani erano una popolazione prettamente estanziale. Cioè avevano il loro microcosmo che ruotava intorno alla città. Un romano viveva e nasceva in una città, mentre un barbaro no. Un barbaro, e questo si riscontrerà soprattutto con gli unni, un barbaro nasceva sui carri, veniva messo al mondo in movimento, non aveva una dimora stabile, era sempre la ricerca di una nuova terra. E questo causa un incredibile sconcerto da parte dei romani. Ma in verità, molte volte i barbari avevano dei contatti con i romani molto antichi e molti barbari erano a conoscenza del sistema romano, delle leggi romane, e soprattutto avevano una stima della romanità molto elevata. E molto spesso, quando più avanti questi barbari entreranno più in maniera consistente nel tessuto della civiltà romana, la maggior aspirazione che un barbaro può avere è di fare carriera attraverso l'esercito. Quindi il barbaro verrà inquadrato nell'esercito romano e avrà la possibilità di fare carriera. Quello che davvero è il punto nodale del conflitto tra Roma e i barbari molte volte si legge la battaglia degli Adrianopoli del 378 d.C. Una battaglia in cui addirittura uno degli imperatori romani muore e i goti trionfano. Ma sembra come se questi goti fossero un popolo estremamente incontrollabile, diverso da Roma, quando in verità i goti sono stati accolti nelle frontiere romane, avevano dei patti con i romani, e i romani non hanno rispettato questi patti, avevano promesso ai goti terre su cui stanziarsi e soprattutto terre da coltivare, hanno lasciato che i goti morissero a migliaia in povertà senza poterli controllare dal momento che non erano più i romani in grado di gestire l'accoglienza dei popoli esterni, come in precedenza avevano fatto, e quindi di conseguenza i goti si sono ribellati. Hanno portato poi questa ribellione al sacco di Roma del 410 da parte di Allarico. Molte volte si parla di questo sacco di Roma del 410, ma Allarico in realtà era un ufficiale romano. Nella prospettiva di Allarico non si rappresentava come un barbaro che stava saccheggiando Roma per la brama di ricchezza o altro. Allarico si rappresentava come un degno esponente e di una fazione dell'impero stesso che parlava di se stesso come un goto. Chiaramente, ma come gli esponenti molti secoli prima di Giulio Cesare parlavano di loro stessi come i cesariani. E quindi di conseguenza lui si rapportava a Roma come sì un centro centrifugo, qualcosa che volesse ribellarsi a Roma, ma allo stesso tempo legittimava il potere di Roma ed era in stabili contatti con l'Oriente. Il saccheggio che lui perpetuò ai danni della città di Roma è dunque un atto di ribellione, un atto che un generale romano fa contro il potere centrale che si rifiuta di ascoltarlo. Nonostante poi, ovviamente, noi leggendo la storiografia romana, leggendo i resoconti dei papi e così, vediamo che il sacco di Roma del 410 fu un evento catastrofico. Ma noi questo e questi eventi susseguirono nel corso degli anni, si moltiplicarono. Quando i Longobardi poi entrarono in Italia, successivamente alla caduta dell'impero romano d'Occidente, vennero visti veramente come barbari invasori. Molte volte qui la storiografia dipinge i Longobardi come un popolo completamente diverso rispetto alla popolazione italiana stanziata nella penisola italica. Questo è vero. Sicuramente i barbari Longobardi, se possiamo usare questo termine, erano diversi rispetto ai Goti, o ad altre popolazioni. Ma poi si va a scoprire che innanzitutto i Longobardi erano cristiani. Sì, ariani. Ariani, cioè di un'altra confessione religiosa, di un'altra posizione dottrinale, ma comunque erano cristiani. Eppure il Papa li dipengeva come lupi rabbiosi che sciamavano intorno alle mura di Roma e non aspettavano altro che prenderne il possesso. Ma cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre che i Longobardi erano a conoscenza dei confini della Romanità, erano a conoscenza delle dinamiche politiche che reggevano l'impero d'Oriente, tanto è vero che furono dirottati a quanto si dice lì da Oriente, o meglio, questa è una spiegazione che si diedero all'epoca in funzione anti-bizzantina gli occidentali, ma in realtà i Longobardi avevano una concezione così stimata dell'impero dei Romani che il re Alboino, che nel 568 cala in Italia, aveva il titolo di Flavio. Flavio Alboino Rex Langobardorum. Flavio Alboino, re dei Longobardi. E quando arriva a Milano, perché lui, Alboino e i suoi, entrano da nord-est, la prima cosa che vuole fare è far rimettere in funzione le terme, il circo, ovvero paludarsi, come avrebbero detto i latini, di funzioni e comportamenti tipici di un gerarca romano o comunque di un capo romano. I Longobardi poi verranno assorbiti a tal punto dalla popolazione italiana che nel Medioevo, poi, quando all'estero si dovrà parlare degli italiani, si dirà Lombardi. O quando si dovrà parlare di gran parte dell'Italia, si parlerà di Lombardia. Quando noi andiamo a Parigi, a Parigi troviamo Rue de Lombarde o a Londra troviamo Lombard Street. Perché questi erano quartieri, erano delle little Italy ante litteram, dove gli italiani appunto stavano nel Medioevo a condurre i propri affari. Parliamo ovviamente però di secoli molto distanti dall'invasione di Alboino, a testimonianza del fatto che i Longobardi si siano integrati perfettamente con la popolazione italiana italica. quando poi Carlo Magno, quindi siamo due secoli circa dopo l'arrivo dei Longobardi in Italia, si raffronterà a questo popolo, certamente vorrà sconfiggere i Longobardi, ma in funzione di sostegno al Papa, che non conduceva una guerra etnica di conquista, conduceva una guerra di interessi territoriali e quasi politica contro i Longobardi, a cui Carlo Magno verrà in sostegno. Carlo Magno è il re dei Franchi e anche qui i Franchi erano una popolazione barbarica, che poi si instaura nella Francia, perlomeno in gran parte in Francia e quegli luoghi che adesso possiamo chiamare Paesi Bassi, che poi si allinea in maniera armoniosa con la Chiesa e soprattutto Carlo Magno sappiamo quanto è stato importante per la fondazione del sentimento europeo che tuttora noi condividiamo con cittadini tedeschi o spagnoli. I barbari dunque, quelli che i Romani chiamavano barbari, vennero già a creare con una mescolanza etnica, con l'unione tra costume germanico e costume latino, l'Europa latino-germanica, che sarà il fondamento della nostra Europa, il fondamento della civiltà occidentale tutta, potremmo dire, poggia sull'unione di queste due civiltà, romana e barbarica. Come il grande Medioevo, il grande Medioevo delle cattedrali, di Dante Alighieri, delle università di Bologna, è frutto di una commistione di questi due popoli. Gli unici barbari che poi continueranno a essere percepiti come lontani sono gli islamici, i saraceni, che, nell'alto Medioevo, provano ad invadere l'Occidente. E poi, con la ripresa dell'anno 1000, quindi l'espansione delle città e la ripresa economica dell'Occidente, saranno a loro volta invasi, con le cosiddette crociate. E noi vediamo il rovesciamento, perché prima erano loro i barbari e poi, dalla loro prospettiva, siamo noi barbari che invadiamo. Cos'è questa categoria di barbari? È semplicemente una categoria relativa che un popolo periodicamente affibbia a un altro per sottolineare una posizione scomoda nei suoi confronti. Non esistono barbari di stato di fatto, esistono barbari circostanziali. Un popolo diventa barbaro a seconda delle circostanze storiche in cui si viene a trovare. Quindi, quando noi parliamo di barbari, nella nostra epoca dobbiamo stare attenti a queste categorizzazioni, che sono storiche, sono cicliche, ma sono sempre relative. Quando noi combattevamo a Lisonzo, quando abbiamo fatto l'Italia, fece la battaglia della Bainsizza nel 1916, i barbari erano gli austriaci. quando noi combattevamo le guerre di dipendenza 1821, 1848, 1866, le tre guerre, pardon, quelle 1821 sono i primi moti insurrezionali contro il dominio austriaco, i moti carbonari. Poi nel 48 a Milano si combatteva contro gli austriaci che erano percepiti come barbari, invasori, stranieri, e poi nel 1882 l'Italia firma la triplice alleanza. Com'è possibile? Prima questi barbari l'hanno percepiti come stranieri e poi adesso ci si firma un'alleanza commerciale e ora capite come questo concetto di barbarico, barbaro, diverso, non è altro che una paura, un metus, come dicevano i romani, i romani che quando descrivevano una paura insita nella loro civiltà usavano questo termine e poi per liberarsi di questa paura ci combattevano. il metus gallico, la paura dei galli, si rivelerà poi nella conquista dell'Italia settentrionale e cosa succederà? Quando l'Italia percepirà gli austriaci come dottani e distanti, scatenerà la prima guerra mondiale unicamente per recuperare Trento e Trieste, occupate, irredenti, non libere, terre irredente, cioè non liberate, non ancora liberate, dal dominio straniero. sono categorie che fluttuano, sono categorie che tornano, quelle di barbarico e soprattutto di altro diverso da noi, che bisogna rapportare a situazioni storiche ben precise. Non esiste una certezza. Quando poi, dicevamo di Carlo Magno, quando Carlo Magno riuscirà a soggiogare l'Italia tutta, non troverà, non la chiamerà Italia alla latina, non la chiamerà neanche penisola italiana, la chiamerà come i testi franchi ci dicono, Langpartoland. Cosa significa Langpartoland? Significa terra dei Longobardi. Ma scusa, eppure quelli erano italiani, erano latini, erano romani, sì ma anche Carlo Magno si definiva romano. Allora vedete che questo è il seme gettato di una nuova Europa. È qui che nasce la nostra civiltà. la nostra civiltà nasce tra il connubio di leggi, costumi, opere scritte e guerre che si combattono in nome di un qualcosa che si deve creare, una civiltà che si deve creare che si combatte con un'altra che poi va a far parte di quest'ultima inevitabilmente perché i popoli seppur in guerra seppur in contrasto si uniscono, mescolano le culture iniziano a tollerarsi, iniziano a stimarsi, a prendere una stima reciproca. È vero, c'è un antico detto franco che diceva savi sunt paiuari stulti sunt romani, saggi sono i germanici, stolti sono i romani. È un detto di presa in giro, è un detto che una popolazione che all'epoca subiva un'ingiustizia da parte dei romani quando i romani saccenti dalle loro posizioni di potere chiamavano i barbari barbari privi di intelletto privi di cultura avevano quindi questa situazione di soggiacenza dei barbari rispetto ai romani si ribalterà e allora loro i barbari franchi in questo caso per prendersi gioco dei romani diranno che i romani sono stolti stolti nell'accezione del medioevo è una parola carica di significati diversi fan fact rispetto ai nostri perché noi sa stolto è una persona quasi un mentecatto una persona priva di intelletto stolti nell'accezione medievale è una parola che noi oggi possiamo ricondurre all'inettitudine l'inazione l'ignavia perché i romani a detta dei barbari quelli che loro chiamavano che i romani chiamavano barbari erano assopiti non avevano più il dominio della storia non avevano più il dominio delle venti e quelli che ora avevano il dominio degli eventi sono i barbari popolo fresco giovane dinamico e proiettato verso il futuro a loro detta quando poi gli occidentali partono in oriente verso l'impero di bisanzio ancora queste categorie barbare se le sentono addosso i bizantini nel medioevo si rifiutano di chiamare gli occidentali romani come loro o di dargli insomma di dargli delle affidi delle delle dominazioni simile a romani come usavano loro loro si definivano romanoi cioè in greco romani li chiamavano latini e quando un certo liut prendo da Cremona si recherà alla corte dell'imperatore di bisanzio i bizantini esploderanno e li rivolgeranno contro voi non siete romani siete barbari e gli utprando dirà stanno così le cose beh io piuttosto che discendere da un patricida scusate da un fratricida come Romolo preferisco definirmi barbaro consapevolezza quindi consapevolezza della propria etnia e consapevolezza dove finisce la propria sfera etnica e dove inizia quella degli altri questo è il medioevo e questa è la costruzione dell'Italia e dell'Europa medievale sfere che si uniscono sfere che sono in continuo mutamento in un meraviglioso libro di Walter Paul le origini etniche dell'Europa che consiglio a tutti le categorie etniche vengono descritte come fluide in costante mutamento ci sono delle origini etnografiche etnologiche quindi delle origini che un'etnia si dà ma sono categorie in costante sviluppo la categoria di etnia italiana che noi abbiamo nel 2023 se permettete è diversa dalla categoria che aveva un abitante della penisola italiana del 1600 o del 1700 è chiaro sono categorie in costante sviluppo che però hanno delle radici e le radici etniche dell'Europa sono nella Volkswangerhunden e nella migrazione dei popoli barbarici grazie